Mario Scrafts è un concept store, è un luogo dove gli artigiani che selezioniamo hanno uno spazio per rapportarsi con il mondo, hanno uno spazio per mettere i loro prodotti, per farsi vedere a livello globale, invece visto dall'altra parte per le persone, per i nostri visitatori è un luogo nel quale possono trovare il meglio dell'artigianato italiano, una collezione di prodotti che noi selezioniamo durante tutto il tempo dell'anno e che certifichiamo come essere prodotti in Italia da artigiani italiani, quindi sono tutti prodotti realizzati a mano, tutti prodotti realizzati con un'estrema cura nel dettaglio e nella scelta dei materiali. Marius poi è anche uno strumento per gli artigiani, è un qualcosa che loro possono utilizzare per avere più spazio da dedicare al loro lavoro, difatti con Marius loro possono dedicarsi al loro lavoro e dimenticare un pochino quella che è la parte che gli va meno a genio, quella commerciale, quella di promozione sul web, questo è l'obiettivo che ci siamo dati con Marius. Marius è sì, poi un sito internet visitabile da tutto il mondo, ma è anche un insieme di luoghi fisici, quelli che abbiamo voluto chiamare temporary showroom, di spazi che mano a mano andremo allestire, nei quali faremo vedere questi oggetti contestualizzati, questo sabato li abbiamo contestualizzati all'interno di un prestigioso appartamento di Lignano, sabbia d'oro, ma che vorremmo portare all'interno di quelli che sono i più importanti musei europei, questo è il nostro obiettivo futuro, quindi riuscire a far vedere questi oggetti, farli esperire dal vivo e poi farli acquistare online, in modo virtuale. Il tutto dando la possibilità agli artigiani di avere un rapporto facile con la tecnologia, quindi non gli chiediamo di rapportarsi con il web e di imparare strumenti particolarmente complicati, di questo ce ne occupiamo noi, a loro diamo solamente l'onere, ma penso che sia il loro piacere, di produrre, di lavorare, di fare. Gli artigiani che pubblichiamo su Marios sono il frutto di una lunga scoperta, di un lungo processo di scoperta che ci vede coinvolti ogni giorno, facciamo scouting di nuovi artigiani, li cerchiamo attraverso internet, li cerchiamo attraverso le riviste, li cerchiamo soprattutto attraverso il passaparola, infatti la cosa più bella forse del nostro lavoro è quella di riuscire a dialogare con gli artigiani per farci parlare di altri loro colleghi che hanno magari prodotti molto belli ma che per una sorta di pudore molte volte rimangono nascosti e non non si fanno vedere. Una volta che li abbiamo trovati poi li andiamo a trovare, parliamo con loro, osserviamo molto bene il loro processo produttivo. Per poter entrare nel nostro catalogo devono avere quattro caratteristiche fondamentali. La prima è che il prodotto deve essere assolutamente artigiano, quindi deve avere una produzione tutto sommato limitata, l'azienda deve avere dimensioni contenute e il titolare dell'azienda, la mente dell'azienda deve essere anche un po' al braccio, quindi deve rientrare nel processo produttivo, non può essere solamente imprenditore che mette il capitale e poi fa produrre ad altri i suoi oggetti. L'altra caratteristica fondamentale è il Made in Italy, quindi la provenienza di tutte le materie prime e di tutto il lavoro dall'Italia. Ovviamente questa è una caratteristica leggermente elastica, nel senso che le materie prime che non sono disponibili in Italia inevitabilmente devono essere reperite all'estero, ma diciamo che il 90% dei nostri artigiani ha materie prime che provengono esclusivamente dall'Italia. L'altra caratteristica è il gusto, devono avere un gusto contemporaneo. Sul nostro sito parliamo di design, parliamo di oggetti comunque progettati e comunque pensati con uno stile però contemporaneo. L'ultima caratteristica è quella che deriva dall'artigianalità e che quindi la produzione non deve essere una produzione di massa, ma deve essere una produzione limitata. Quindi gli oggetti sono molte volte numerati, sono molte volte piccole serie, quando non sono pezzi unici. Ci sono molti artigiani che fanno un pezzo e quello è. Il pezzo successivo potrà essere simile ma non sarà mai uguale al precedente. Queste sono le quattro caratteristiche importanti per poter essere selezionati e per poter entrare poi nel nostro catalogo.